Centri massaggi e acconciatori orientali aperti a tutte le ore, ma anche e soprattutto un comune che viene giudicato assente addirittura da mesi, non risponderebbe alle lettere, alle telefonate che arrivano dagli artigiani. Le categorie benessere di UPA, Libera Artigiani e Casa Artigiani questa mattina hanno deciso di organizzare una conferenza stampa per denunciare pubblicamente proprio lo stato di abbandono in cui si sentono. L'amministrazione davvero è così sorda alle vostre richieste? Noi abbiamo denunciato questo già da due anni, abbiamo avuto diversi incontri con il comune, abbiamo prodotto tutto quello che era la documentazione che dava ragione a noi e sostenere il fatto che ci vuole un'ordinanza con gli orari, abbiamo anche fatto scrivere al nostro avvocato più volte senza contare le mille telefonate, ma oggi non abbiamo nessun risultato e loro abbiamo pensato di informare la stampa. È solamente una questione di orari o anche di rispetto di altre regole, ad esempio lamentate il fatto che molti esercizi storici sono retti da persone qualificate, con corsi di formazione anche a tutela dei consumatori, molte aperture recenti invece sembrano un po' troppo libere secondo voi? Doveva essere eletto promettendo di aiutare? Noi non è che volevamo dei favori, vogliamo solo che si faccia quello che dice la legge, anche se in questi anni abbiamo fatto tanto per la nostra città facendo serate benefiche, vedete i televisori dell'ospice, i servizi sociali, il dottor Cavanna, abbiamo sempre dato e non è che vogliamo regali, ripeto, ma quello che è il nostro diritto che salvaguarda la nostra dignità umana. Voi ritenete di essere vittime come esercenti regolari e preparati di una concorrenza sleale? Sì, noi vorremmo delle regole che sono uguali per tutte.